In corso Umberto I cominciano già i preparativi per l'allestimento degli stand che ospiteranno la settima edizione del Sicily Food Fest, la manifestazione che accompagnerà insieme alla seconda edizione del Marie Crio Music Fest in Isseni nel primo weekend di settembre. Si preannunciano tre giornate, dal 2 al 4 settembre, l'insegna della musica ma anche del buon cibo, con le tipicità del territorio, i prodotti tradizionali della gastronomia siciliana, street food e birri artigianali, pensando anche alle pietanze senza glutine. Gli stand no gastronomici in corso Umberto I apriranno alle ore 18 ogni giorno e oltre alle degustazioni e show cooking si prevedono anche nell'atrio del municipio i laboratori del gusto della condotta slow food Caltanissetta, un incontro dell'associazione We Start e seminari curati dal primo parco mondiale dello stile di vita mediterraneo. Gli eventi si svilupperanno in centro storico principalmente tra corso Umberto I e piazza Garibaldi, ma si prevedono anche visite al Museo Averna e l'accesso alla bazia di Santo Spirito. Già dal tardo pomeriggio comincerà la musica con i DJ set e poi le esibizioni dei diversi artisti alle 21 e 30. Confermata dopo le polemiche dei giorni scorsi che si sono concluse a seguito delle parole scritte dallo stesso artista, l'esibizione di Paolo Belli che salirà sul palco in piazza Garibaldi accompagnato dai 12 elementi dell'orchestra il 2 settembre. Per la seconda serata del 3 settembre si prevede l'esibizione di Gero Riggio e degli Swing Growers e DJ set. La manifestazione si concluderà poi il 4 settembre con le teste di Ozak e DJ set.